ciao siamo in onda benvenuti a vera informazione articolo 21 ricordo libertà di opinione di stampa di pensiero e quant'altro carissimo generale mappalardo ospite in questa puntata speciale di trsp tele radio san pietro che è una televisione importantissima in tutto il centro italia e centrosolto benvenuto è un onore averla seduto qui lei ormai un elemento fondamentale una persona un personaggio importantissimo fondamentale e con la sua esperienza quarantennale di 42 anni notte giorno perché l'arma dei carabieri fa lavorare i carabieri notte giorno sabato e domenica per 42 anni i bravi carabieri come lui allora io volevo solamente dire per un saluto almeno allora questa è una puntata speciale caso 18 di la nave 18 tutti avete sentito parlare in generale c'è da dire parecchie cose su questo non tolgo il tempo utile e poi abbiamo da parlare del caso appunto caso salvi i vari casi che adesso in generale ci comincia a parlare se ci saluta i nostri e i nostri centinaia di migliaia di milioni delle spettatori che ci raggiungono su trsp benvenuto ci parli del caso della nave 18 generale prego a lei la fa io vorrei far capire ai cittadini che sono stati messi nelle condizioni di non comprendere quello che sta che è successo veramente nella nave 18 e addirittura qualche cial troncela ha detto che mi ero spostato verso sinistra con con renzi quando è stato di maio che ha cercato renzi e poi renzi gli ha dato un calcio in faccia e lui si è messo con salmini io sono il generale antonio pappalardo dei carabinieri io con la sinistra non mi sono mai messo sia ben chiaro il caso 18 è un caso particolare io non mi sono occupato del caso 18 perché mi volevo occupare di migranti io mi sono occupato del caso 18 perché mi sono occupato dei marinai della nave 18 dovete sapere cari amici che io oltre essere co presidente del comitato dei saggi sono anche presidente di scudo carabinieri che è un sindacato dei carabinieri ebbene mi è arrivata una telefonata da parte di una signora la moglie di un marinai mi ha detto generale lei il generale pappalardo si sono io mi dica signora no volevo sapere come mai il mio ammariglio che è rientrato con la nave 18 è tenuto prigioniero recluso nella nave e non torna a casa io mi sono meravigliato come va e morirai torna dalla sua missione in mare e viene tenuto prigioniero allora a questo punto ero molto perplesso sul da farsi quando mi arriva un'altra telefonata questa volta dal presidente del movimento noi siciliani a direttissimo dicendo a queste porcate il signor Salvini con i suoi leghisti li va a fare in Lombardia non in Sicilia ma noi siciliani siamo abituati a comportarsi diversamente con le persone ho detto scusate fatemi capire ma che sta succedendo nella nave 18 e mi hanno spiegato a larghe linee fatevi una denuncia un esposto che io possa leggere prima di scendere da Roma e venire a Catania mi hanno fatto un esposto denuncia in cui chiaramente era ed evidente il reato di sequestro di persona ho detto un momento vengo a Catania sono andato a Catania con l'esposto denuncia sono andato non dalla procura di Regento davanti al procuratore della Repubblica di Catania il dottor Zuccaro che è un uomo che ha combattuto contro le migrazioni clandestine e ha combattuto contro le ONG che si mettono i soldi in tasca a seguito di queste migrazioni che loro favoriscono dall'Africa in Sicilia bene ho presentato l'esposto il procuratore mi ha ringraziato in modo evidente dopodiché sono mi sono portato al porto volevo parlare col comandante e lì sono cominciati i dolori i dolori perché presentatemi al porto c'era un mungolo di poliziotti con un commissario di polizia della polizia di stato mi ha detto lei non entra siamo in una democrazia non posso entrare perché non posso entrare sono anche un generale di carabinieri come non posso entrare lei non può entrare ma devo portare un atto giudiziario al comandante ma lei non glielo porta ancora lei insiste ma allora faccio una cosa mi faccia parlare al telefono col comandante se lui dice che non mi vuole ricevere il caso è chiuso ma se lui vuole ricevere lei mi fa passare no lei io non faccio alcuna telefonata immediatamente mi sono fatto dare carta e penna e ho preso il nome del vicequestore e del commissario della polizia di stato mi denuncio a tutte e due e me ne sono andato fatto qualche centinaio di metri ho visto capitaleria di porto sono entrato e ho incontrato alcuni ufficiali della marina e ho detto agli ufficiali della marina come mai non posso parlare col comandante ma lei che sta dicendo generale ma che stiamo scherzando siamo in una repubblica democratica come fa lei a non parlare con il comandante e il commissario mi impedisce lasci stare il commissario lasci stare i poliziotti che come obbedivano ciecamente avveniti adesso stanno cominciando ad obbedire ciecamente a salmini lei può andare bene mi sono rincamminato ho attraversato il posto di blocco il commissario era notevolmente confuso mi sono presentato davanti alla nave dove c'era il vice comandante c'erano gli ufficiali della marina benvenuto generale mi hanno messo la mascherina e sono salito su premetto non sono andato per i migranti non mi sono fatto la fotografia con i migranti per farmi quello con della Boldrini e altri personaggi squalliti che si fanno le passarelle io sono andato qui per parlare con il comandante e della situazione della nave militare e se venivano violate delle norme fondamentali della costituzione delle leggi italiane io sono un generale di Carabinieri mica sono un cialtrore di politico il comandante mi ha ricevuto nella sua cabina veramente di una cordialità assoluta a tutt'oggi contro il comandante gliene dicono di tutti i colori cialtroni state zitti non sapete di chi state parlando di un galantuomo e dei suoi marinai cialtroni leghisti state zitti non offendete i marinai i nostri marinai che rischiano la via la vita ogni volta che vanno per mare e i meriti mascalzoni non li offendete e ho detto al comandante scusi comandante io sono stato comandante prima di te con i capelli bianchi ma scusami ma tu hai preso i 177 migranti a largo e li hai portati in Italia come mai? ma Salvini che va urlando tutte le sede al mattino, al sede, sta sempre in mezzo alla strada in mezzo ai giornalisti dovrebbe stare maggiormente in ufficio a lavorare sta urlando che non deve sbarcare nessuno perché li hai portati? nonostante queste urla quotidiane di Salvini risposta del comandante non c'è pervenuto alcun ordine per iscritto a di non far sbarcare le persone non ho ordine per iscritto di non far sbarcare nessuno come sarebbe a dire? questo urla e ancora non ho fatto un decreto antismatto poi ho accertato che a tutt'oggi il governo non ha ancora fatto alcun decreto antismatto gliela mettono tutt'ora gliela mettono nel posteriore ai marinai che si devono prendere la brigadia accettare loro accettare i loro rischi e pericoli e ho detto al comandante scusami comandante ma questa era una verità tu dovresti ricevere ordine dal ministro della difesa una volta che hai accompagnato i migranti li devi consegnare alle forze di polizia non è il tuo compito controllare i migranti tu non sei un poliziotto li consegni e te ne vai nuovamente in mare perché è il tuo compito battugliare le coste non stare mai di fermo con la nave per alcuni giorni eravamo già al quinto giorno ma scusami comandante ma qualcuno ti ha dato l'ordine di stare qui con i migranti a bordo invece di consegnarli subito ai marinai ai poliziotti ce l'ha dato Salmini per iscritto no te l'ha dato il prefetto per iscritto no te l'ha dato la magistratura per iscritto no scusami comandante io ti voglio bene io sono passato prima di te questi politici sono degli imbroglioni dei mascalzoni alla fine non si prendono le loro responsabilità si furbano comandante fatti dare un ordine per iscritto fatti dare un ordine per iscritto e poi fai quello che ti hanno ordinato di fare ma ben iscritto il comandante mi ha ringraziato sono sceso non mi sono intrattenuto con i migranti mascalzoni che offendete le persone non mi sono intrattenuto sono sceso sono sceso e sono andato giù easy giornalisti già venduti a saldini e compagni mi sono piombati addosso ma come mai lei è entrato nella nave chi l'ha autorizzato ma lei ha parlato con il comandante che cosa le ho detto il loro terrore è che io parlassi con il comandante ecco perché non volevano che io ci parlassi pappalardo che dice la verità e non ha paura di nessuno se parla con il comandante scopre le graie gli imbrogli di saldini e a questo punto ho detto io a voi non vi dirò niente che vi dico quello che mi ha detto il comandante lo riferisco ai carabinieri toglietemi dai piedi al che mentre mi allontanavo un altro giornalista obsceno giornalista mi ha avvicinato e mi ha detto caro generale che è venuto a fare tanto la nave è bloccata con tutta la gente che c'è sopra e non li fa scendere nessuno perché qui ormai in Italia attenzione alle parole qui ormai in Italia comanda saldini Di Maio non conta un tubo Conte non conta un tubo il ministro della difesa non conta un tubo conta solamente lui ho detto ma lei che vuole da me io ho fatto il mio dovere di generare i carabinieri ho denunciato un fatto che viola l'articolo 13 della Costituzione e l'articolo del codice penale che vieta il sequestro di persona perché la polizia lo stesso ministro entro 48 ore devono riferire alla magistratura a qualsiasi privazione di libertà noi non siamo ancora nei paesi dittatoriali siamo ancora in Italia dove la magistratura è solo la magistratura che è priva della libertà ai cittadini ai distranieri e non il ministro dell'interno a questo punto mi sono allontanato dopo un'ora che mi ero allontanato mi è arrivata la polizia sono tutti smarcati perché il comandante aveva chiesto l'ordine per iscritto si sono fatti addosso perché in quel momento si prendevano le loro responsabilità e li hanno fatti a gare via ma scalazzo e mi parlate male della marina militare io ho urlato appena sono sceso dalla nave viva la marina militare viva i gloriosi marinai che ci difendono lungo le coste viva i marinai della Repubblica democratici che si differenziano da certi centroni che già si sono allineati come erano allineati con minniti adesso basta signori la dovete smettere di romper e scotolo il generale dei carabinieri che ha fatto il suo dovere cittadini della Repubblica se siete veramente cittadini aprite gli occhi e non permettete a nessuno di stare al di sopra della legge io la ringrazio generale è veramente è un onore ospitarla nella mia trasmissione è veramente sempre un onore perché lei porta una luce di saggezza vera e consona al suo personaggio e alla sua professionalità di uomo e lunga carriera dei carabinieri veramente che seguono la legge la legalità per la legalità io devo dire che ci sta scatenando una vera isteria di massa una vera isteria di massa veramente contro chi non la pensa come come Salvini quindi veramente io poi ne sono anche ovviamente esposto allucinante veramente siamo una una specie di una specie di 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 sociale che è sbagliata perché la legge è la legge e ognuno deve avere i propri ieri io la ringrazio per essere stato con noi per informazioni l'aspetto alla prossima puntata da un ciao Saludone Marino verità 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 e legalità con il generale Vappalano Saludone Marino a presto a presto